Cosa ci può dire di questa società? Quali sono oggi gli obiettivi? Innanzitutto precisiamo che sono stato nominato da pochi giorni, per cui quella delega che il Presidente della provincia di Bergamo, Onorevole Pirovano, mi ha dato, è una delega in questo momento per capire la società. È ovvio che la società è una società che ha già fatto moltissimi investimenti, anzi parecchi milioni di Euro di investimenti sulle fibre ottiche, quindi la famosa banda larga, questi investimenti sono stati fatti nella provincia di Bergamo, nella parte sud. La delega che ho ricevuto è quella che vorremmo a questo punto portare la banda larga, soprattutto là in quelle zone dove gli operatori privati non intervengono e quindi nelle vallate, Val Seriana, Val Brembana, Valimagna, insomma in tutte quelle zone dove gli operatori privati non intervengano, perché non è economicamente pagabile. È ovvio che però queste zone hanno necessità, forse più di altre zone, di essere messe in rete e quindi uno degli obiettivi che ci porremmo sarà proprio questo. Con l'attuale CDA è stato raggiunto anche un certo risparmio? Sempre l'obiettivo del Presidente della provincia è di nominare nei CDA delle persone che possano anche dare dei risparmi economici per le società stesse. Ovviamente c'è un risparmio in quanto io essendo già assessore provinciale non posso percepire altri indennizi in società capitale pubblico. Assessore, l'ha già detto, alcune aree non sono interessanti per gli operatori economici, però voi comunque volete portare anche lì il digitale a banda larga? Sicuramente sì, quantomeno vogliamo portare la DSL che questo è fondamentale e se si riesce anche il digitale a banda larga. Questo perché? Perché ovviamente sarà difficile trovare operatori che facciano investimenti di parecchi milioni di Euro in zone dove la richiesta non è enorme, ma non dimentichiamo che nelle nostre vallate esistono ditte e non solo ditte, ma anche artigiani che danno dei grossi benefici economici all'intera provincia e per dire la verità anche all'intera regione. Quindi noi non possiamo non far sì che questa banda arrivi anche da loro.